L'idea era quella di vivere le festività del Natale in modo differente ed è quello che è effettivamente accaduto, una calza solidale realizzata dall'Associazione Andriese di Azione e che ha permesso di raccogliere diversi fondi reinvestiti poi nell'acquisto di beni di prima necessità per i bambini seguiti da Casa Accoglienza Santa Maria Goretti. L'evento si chiamava acquisto di una calza solidale proprio per aiutare il futuro di Andria e non solo, per cui i bambini è la cosa più bella, più cara a tutti noi, perciò bisogna aiutarli e nel limite del possibile cerchiamo di farlo. Una vera e propria maratona di solidarietà per i più piccoli, per i più fragili e indifesi, le cui necessità spesso vengono messe da parte. Ieri la consegna dei primi pacchi a cui seguiranno altri arrivi di materiale, latti, biscotti, omogenizzati, una donazione che permetterà di incrementare ulteriormente le possibilità di aiuto alle famiglie in difficoltà, come ci spiega Don Jeremia Acri, per un servizio che resta tra i più importanti ma altrettanto costosi di Casa Accoglienza. Davvero da soli non saremmo riusciti a soddisfare le esigenze dei circa 80-90 neonati che abbiamo. Se oggi dice una cosa importante questo servizio, soprattutto in questo contesto di pandemia, l'umanità deve essere riparturita e rigenerata, perché se non siamo riparturiti e rigenerati non capiremo mai la bellezza della vita e l'essenzialità, così come questi prodotti che continuano a dare vita a questi bambini che purtroppo non possono soffrire del latte materno, ma soprattutto di quanti decidono poi di abortire perché non hanno le risorse e grazie a questi aiuti continuano a portare la vita in grembo e poi a farla nascere. Fondamentali sono state naturalmente le donazioni di tanti cittadini che hanno acquistato le calze realizzate dall'Associazione Ideazione, ma è essenziale stata anche la partecipazione di diversi partner che hanno sposato il progetto nel segno della vita, del dono della vita ai più fragili. Donare non è un beneficio soltanto perché riceve, ma è un grandissimo beneficio per chi dona, perché uno poi torna a casa, va a letto col cuore contento, per cui siamo sempre solidali con le persone che hanno più bisogno.